Siamo qua con il mister in Burgia al termine della partita tra Saronno e Gavirato. Mister, partita eroica della sua squadra, della, diciamo, Juniores. Arrivata la sconfitta solo alla fine. Cosa vuoi dire a questi ragazzi? C'è poco da dire, c'è solo da fargli un grosso applauso a tutti. Eravamo con 8, 2, 1, 8, 7, 2, 1, 2, 1. Ha andato in anima, ha fatto tutto quello che potevano, l'hanno messo in campo, cuore, green, tutto, tutto. Hanno giocato veramente una partita, secondo me, oltre le aspettative, oltre le aspettative. Quindi solo un grazie a tutti e un applauso veramente a questi ragazzi che hanno dato in anima. Grazie, mister.